La ricostruzione degli immobili privati dell'Aquila ha raggiunto una percentuale del 75%, con punte anche superiori. Il capoluogo, come potete anche vedere dalle immagini, è pressoché ricostruito. Molti palazzi sono stati restituiti ed altri sono in stato di avanzato sviluppo dei lavori. Contiamo di chiudere l'attività dell'ufficio con le istrutture delle pratiche nel 2021 e la conclusione vera della ricostruzione con tutti i cantieri ultimati a partire dal 2023-2024. Questa è la sfida delle prossime settimane, dei prossimi mesi, perché una volta conclusa la ricostruzione fisica non può che compiersi anche quella sociale. I palazzi torneranno ad essere abitati, le attività commerciali pian pianino stanno rientrando nel centro storico e contiamo che questo processo si continui sempre con maggiore frequenza e intensità. Da qui a qualche anno troveranno una città più bella, più fruibile, dove i monumenti sono tornati, se fosse possibile, anche più belli di prima, perché hanno una nuova veste, sono ripuliti, le loro fasciate sono splendenti e pertanto questi mobili da visitare, queste emergenze culturali importanti, si trovano in un contesto di una città rinnovata e pertanto contiamo che possono essere d'attrattore per il turismo. Non mi sento di dire che la strada è discesa perché la ricostruzione di questa città è complessissima. Noi possiamo dire che il terremoto ha distrutto un capoluogo di regione, con tanti immobili vincolati e con tante funzioni istituzionali, pertanto adesso siamo già uno stato avanzato di ricostruzione, languo un po' la ricostruzione pubblica, cercheremo di trovare delle formule per poter accelerare con la ricostruzione pubblica in maniera tale da restituire anche servizi essenziali che ancora sono un po' fuori dalla città. Grazie!